Buongiorno a tutti, amanti del calcio e curiosi del mondo dello spettacolo. Oggi siamo qui per parlare di un'icona, un campione, un personaggio che ha fatto la storia del calcio italiano, Francesco Totti. Ma attenzione, perché oggi non stiamo parlando di una sua incredibile azione in campo. No, stavolta ci addentriamo nei corridoi bui della finanza con un accertamento fiscale che ha fatto tremare persino il nostro ex capitano giallorosso. Metti un like ed iscriviti al canale per supportarci. La guardia di finanza ha bussato alla porta di Totti, il mago della Roma, per una verifica dei pagamenti, delle sponsorizzazioni e delle tasse pagate. Un controllo a campione, come accade a molti, ma che ha messo sotto la lente di ingrandimento gli affari dell'ex capitano. Immaginatevi la scena, il nostro eroe, lontano dal campo, alle prese con documenti, cifre il timore di possibili complicazioni legali. Ma non preoccupatevi troppo, almeno per ora. I finanzieri hanno chiarito che si tratta solo di una prima verifica, nulla di penale al momento. Totti, sempre il nostro capitano, è tranquillo, ma la notizia ha già fatto il giro dei siti, alimentando il gossip e l'attenzione mediatica su di lui. Pensi che troveranno qualcosa agli agenti della finanza. Quindi, cosa ci riserva il futuro per Francesco Totti? Sarà una passeggiata tra i meandri della contabilità o un'impresa con risvolti legali? La sua separazione da Ilari Blasi, già sotto i riflettori, potrebbe aggiungere un tocco di dramma a questa vicenda. Non ci resta che attendere, osservare e analizzare insieme gli sviluppi futuri di questa storia intrigante.